Guardi qua, hanno ancora le piume attaccate addosso. Ah beh, per quello lascia parlare a me, che sono un maestro e io devo spendare i polli. Ma, qual è il tuo problema? Ecco, vede, io mi vorrei sposare, quando Damboglio non vuole. O meglio, lui vorrebbe anche, ma è Manzoni che non vuole, perché quei bravi, credo ce ne abbia parlato lui. Ma io questa volta mi ero portato i libri di rattino, ma ora quelli di diritto li ho dimenticati, perciò io... Oh, ma che guarda buio, per favore. Si potrebbe... Si potrebbe... Si potrebbe... Ah, zi, tu me l'hai fatto scappare, dov'è? Vieni qua. La mia è qua, che stanno recitando. Che roba è? È un garbuglio, fresco, fresco, appena acchiappato. Lo metterò via per il prossimo episodio. No, no, stai resistendo. Sarà il prossimo episodio.